Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it Continuiamo a parlare di Adobe Photoshop, la versione beta per essere precisi e lo facciamo parlando ancora della possibilità recente di generare contenuti con l'intelligenza artificiale. La nuova funzionalità, l'abbiamo vista nella scorsa lezione, nello scorso tutorial, è molto interessante e permette di generare delle immagini grazie all'intelligenza artificiale. Oggi vedremo come sfruttare questa tecnica, ripeto e ribadisco, disponibile solo in Photoshop beta quindi ancora non è una funzionalità, non è uno strumento entrato a far parte ufficialmente della suite Adobe per arredare per esempio una casa. Ecco, quella che voi vedete davanti a voi non è altro che un living room, una sala da pranzo, un salotto con degli oggetti di arredamento. Tutto però è stato generato a computer, l'immagine originale era questa. Grazie all'intelligenza artificiale SM6 di Adobe e grazie a questo nuovo strumento di recente disponibile in Adobe Photoshop versione beta, ecco abbiamo potuto aggiungere degli elementi e vedere per esempio come avremmo potuto arredare la nostra stanza. Ecco, molti hanno scritto questo strumento sarà la rovina, definitivamente la rovina della creatività e beh la risposta che mi sono sentito di dare è no, non necessariamente, è uno strumento che però se utilizzato nel modo corretto invece può essere di grande aiuto. Prendiamo questa fotografia e ricominciamo da capo. Questa è una stanza completamente vuota e immaginiamo di volerla arredare. Beh, cosa potremmo fare? Prendiamo lo strumento lazzo e creiamo una selezione. Per utilizzare questo nuovo strumento basato sull'intelligenza artificiale dobbiamo partire da una selezione. Perché? Perché noi diamo a Photoshop le indicazioni sull'area all'interno della quale vogliamo venga generata un'immagine dall'intelligenza artificiale e vedete che dopo aver fatto la selezione in basso appare un nuovo pannello chiamato Generative Fill riempimento generativo. E il nome è corretto perché se è vero che nella scorsa lezione abbiamo visto come questo strumento possa creare delle intere immagini in autonomia in realtà questo strumento è molto potente e molto utile quando deve fare dei riempimenti. Per esempio, qui vogliamo aggiungere un tappeto. In inglese il tappeto si dice Carpet. Per adesso questo strumento lavora solo con la lingua inglese ma sono confidente che nelle prossime settimane ovviamente anche la lingua italiana verrà abbondantemente supportata. Bene, abbiamo scritto Carpet. Clicchiamo su Generate. Qualche istante di pazienza e Photoshop analizzando i pixel di tutta l'immagine cercherà di creare un tappeto che stia bene con l'intero fotogramma quindi in questo caso con l'intero soggiorno. Ancora un attimo di pazienza ed ecco un tappeto. Abbiamo, come abbiamo già detto l'altra volta, tre versioni. Lasciamo questo che mi sembra forse il meno brutto, almeno a livello cromatico. Ok, ipotizziamo di voler aggiungere un mobiletto con la televisione. Anche qua facciamo una selezione dell'area in cui vogliamo aggiungere il mobiletto con la televisione e lo chiamiamo per esempio TV Cabinet. Vediamo cosa esce fuori. Generate. Ecco, come avete visto io ho inserito il nome qui sul pannello di destra invece che nel pannellino presente vicino alla selezione è totalmente indifferente la soluzione. Quello che conta alla fine è il risultato. Ecco, abbiamo anche qui tre alternative. Una, forse questo è il migliore e questo. Bianco forse potrebbe anche stare meglio. Potrebbe essere un'alternativa. Però magari a me questa televisione non piace quindi magari seleziono soltanto la televisione e metto television. Vediamo se mi generano un televisore un po' più carino. Per esempio invece che questo che non si capisce bene cos'è. Eh, ribadiamo il concetto. È sempre intelligenza artificiale. Quello che viene generato è molto, molto credibile. Molto fatto bene ma non per forza perfetto. Eh, per fortuna, per il momento. Ecco, abbiamo tre alternative. Abbiamo una televisione. Vogliamo mettere dei quadri? Ok, e li ridiciamo. Picture, wow. Abbiamo un quadro. Potete continuare a sperimentare, eh. Se avete un altro, un altro... Chiaramente cercate di non fare come me. Prendete delle immagini magari ad una qualità decente. Questa l'ho scaricata da Google Immagini è una versione gratuita di un'immagine che probabilmente ha una risoluzione molto migliore. Però ecco, anche qui, se vogliamo mettere, non so, un fantastico... Cosa ci potrebbe stare bene in questa stanza? Per esempio, un letto? Beh, sì. Potrebbe essere una camera da letto questa, eh. Vediamo come esce fuori con un letto. Bad, bro. No, bad. Ok. Non possiamo lamentarci troppo, eh. Considerando che la qualità dell'immagine è veramente pessima. Ribadisco, qui servirebbe un'immagine di una qualità buona, eh. Io qui sto lavorando con un'immagine veramente di pochi pixel. Quindi, ovviamente, più pixel avete, avete più informazioni Photoshop ha su cui lavorare. Quindi, stiamo testando questo strumento con un'immagine di scarsa qualità. Abbiamo fatto una stanza da letto con un bellissimo quadro sullo sfondo. Bene, mi fermo. Non c'è altro da dire su questo strumento di Photoshop. Se volete, se vi va, mettete un like a questo video, commentate. Iscrivetevi a questo canale YouTube, se vi fa piacere, condividetelo con i vostri amici. E se volete imparare a montare con Adobe Premiere Pro o a creare grafica animata con After Effects o volete imparare ad editare l'audio utilizzando Adobe Audition, ci sono i corsi su questo canale YouTube riservati agli abbonati. L'abbonamento costa 3 euro al mese, quindi è come se ci vedessimo 3 giorni al mese e mi offriste un caffè. Voi aiutate me con questo progetto e in cambio, chiaramente, ci sono i corsi completi per utilizzare questi tre strumenti, oltre ad altri video che magari in futuro sicuramente arriveranno. www.fabbiambrosi.it Il mio sito è internet. Cercatemi anche su Instagram, se vi va, e su Facebook. Grazie per avermi seguito. Buon proseguimento di giornata. Ciao.